ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi faremo un video di whispering molto lento su sorrendenze rispondendo a un thug che sta molto girando in questi giorni che le hanno convengente un thug, non so se chiami così spero ideato da l'attività smr vi lascio il suo canale qui sotto è un thug veramente molto carino, lei è una persona molto originale da quello che mi sembra di vedere è anche una persona molto dolce sempre da quello che mi è parso che con me personalmente è molto dolce e molto paziente e ti mando un bacio e io sono stata saccata in particolare che io sappia da una persona che è Giulia del canale Giulia Watson che forse conoscerete lei è una ragazza che fa più lifestyle ma che nell'ultimo mese, non so predirlo adesso ha cominciato anche a fare regolarmente video smr è molto, 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 molto brava vi lascio entrambi i canali qui sotto e non lo faccio neanche a Giulia ok volevo dirvi una cosa prima di cominciare e cioè che in tantissimi mi state chiedendo la seconda parte del video di Dreams Airlines e quello dell'assistente di volo arriverà ma non so quando potrebbe arrivare per quel che ne so io a settembre 2020 nel senso che per ora non sono ispirata a farlo onestamente e visto che ci tengo molto a quel video voglio che sia fatto bene voglio trovare un periodo per farlo in cui sono totalmente ispirata in cui so che lo posso fare al meglio delle mie capacità per ora guardatevi i video che vi propongo però toffero non continuate a chiedermelo perché mi fa passare un po' la voglia di farlo onestamente perché mi sento un pochino forzata e non mi piace sentimi forzata a fare qualcosa quindi cominciamo con il talk e per chi chiede questa cosa nei commenti magari in altri video appunto rispondete rispondetegli ciò che ho detto ora magari non l'hanno sentito non l'hanno visto questo video ok prima domanda è qual è la prima cosa che pensi quando ti svegli la mattina? ehm onestamente che ho sonno e d'inverno che ho freddo tipo chi me lo fa fare? questo è il mio primo pensiero quindi sì la seconda domanda è se ho mai odiato qualcuno da augurare del male no? cioè che io mi ricordi no? forse quando ero ragazzina non mi rendevo conto delle cose che dicevo però direi che così tanto tanto odio no ripeto da quel che mi ricordo lo spero in realtà di non essere stata così terza credi nella vita dopo la morte? sì non è proprio vita però insomma credo nel nel continuo dell'esistenza della nostra anima io poi sono cristiana cattolica quindi cioè ci credo in un certo modo non mi faccio diciamo particolari strane idee 5 scusate 4 pensi che ogni cosa sia già stata scritta? no perché noi veramente abbiamo una possibilità di scelta infinita e abbiamo comunque molto 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 potere sulla nostra vita che finisce quando hai confine su il potere che un'altra persona ha sulla propria vita però diciamo che molte volte sono convinta cioè dico spesso la frase quando quando magari c'è stato un incidente molto 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 grave e le persone sono rimaste illese io dico sempre non era la loro ora in realtà ci credo e sì dico molto così quindi insomma ci sarebbe un ragionamento oltre da fare che però questo non è il luogo da fare in cui farlo però sì e cinque credi che se sei positivo riceverai positività non per forza ma se ami in generale proprio nella vita sarai amato se sarai antipatico con la gente risulterai antipatico e questo penso sia normale se sei una persona gentile amorevole sarai proprio ricompensata in queste cose sicuramente non da tutti eh però da molti sì quindi più che positività è affetto e amore essere buoni quello sì sei esiste l'amore eterno certo e ne abbiamo la prova in ogni genitore penso la maggior parte dei genitori non smetteranno mai di amare i propri figli quindi non sto parlando solo di relazioni in cui in realtà sì ho avuto anche la prova di quello ma davvero soprattutto anche proprio figli sette una cosa fatta di cui non vai fiero tante cose in realtà casino ma la cosa di qui non diremmo che più una cosa in particolare riguarda sempre due lati del mio carattere il primo è che tendo ad essere un po' acida un po' è per questo che vi dico che ci tengo così tanto a al concetto che amore genera amore perché io lo vedo molto negli altri e io ci sto lavorando diciamo così sono molto sincera e e e e la cosa le cose di cui non vado fiera sono due la mia immensa immensa pigrizia e a volte il mio essere distaccata il tenermi un po' lì e non arrivare qui in molte cose beh non ne sono contenta però ci lavoro 8 hai mai partecipato a una seduta spiritica? no no non sono una persona così tanto superstiziosa ma credendo nell'anima no no cioè non sono mai stata curiosa e non sono una persona così coraggiosa onestamente 9 ha mai svelato un segreto? si a persone molto fidate ma solo quelli diciamo che mi facevano stare molto male e ovviamente assicurandomi che la cosa non uscisse da noi comunque si cioè adesso non non lo faccio più più che altro in adolescenza e adesso mi è capitato una volta di non sono comunque non sono segreti diciamo così sono più situazioni non so se qualcuno mi capirà comunque si 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 poi io non cioè da piccola non mi sapevo a tenere niente quindi sicuramente si 10 se vedi un carro funebre fai gesti sgramantici si non ne vado fiera ma decisamente si a volte faccio anche il segno della croce comunque 11 ti fai il segno della croce quando entri in chiesa si sempre perché sono credente quindi assolutamente si non ha senso è come entrare in una casa diciamo entrare in una casa di una persona che ti ospita e non salutarla è maleducatissimo 12 all'occorrenza impreghi assolutamente no cioè proprio no non lo supporto neanche onestamente non ne vedo veramente il senso lo trovo oltre che cafone onestamente cioè proprio ve lo dico onestamente lo trovo cafone e il rispettoso si cioè soprattutto chi lo usa chi chi imprega come intercalare proprio non lo sopporto no 13 vorresti sapere quando morirai? sì sono troppo curiosa per non volerlo sapere ma in realtà cioè mi sta bene così però cioè nell'ipotetica assurda diciamo possibilità che io possa saperlo dire di sì cioè nessuno resisterebbe alla curiosità dai 14 sei fissato con la lettura del tuo oroscopo? assolutamente no minimamente no non dico che non ci credo ma non l'ho mai neanche approfondito e comunque ci sono sempre certe cose che corrispondono tantissimo e c'è altre altre no vuol dire se io dico 10 caratteristiche e dico sono convinta che tu abbia 10 caratteristiche è molto probabile che io ne azzecchi 5 questo non vuol dire che ti conosca o che siano giuste insomma 15 l'abito fa il monaco nì però secondo me da cioè imparando a conoscere una persona forse se si osserva come si veste una persona si può si possono percepire certe cose magari ci sbagliamo perché cioè sicuro ci sbagliamo però a volte da magari diciamo che da magari un cambiamento del modo di vestire se si può percepire qualcosa però in generale no 16 vorresti sapere un pettegolezzo su di te assolutamente sì io mi diverto un casino cioè se ne sapete vabbè improbabile però vi prego ditemelo mi fanno troppo ridere 17 qual è il tuo guilty pleasure qui è descritto vabbè il guilty pleasure il guilty è la il la colpa quindi il il tuo la cosa piacevole che però ti fa sentire in colpa e qui però è descritto ma è qualcosa che ami fare che è vista come cosa strana e quindi inconfessabile sarò onesta con voi e cioè questa cosa non non mi viene in mente niente l'unica cosa che mi viene perché mi sento in colpa in questo momento e ad esempio e sembra una cosa totalmente stupida e mi sento totalmente stupida dirlo però ad esempio per dirvi comprare l'avvocato del che vedo che viene dal Cile anche sapendo che non è sostenibile lo so ragazzi mi giudicherete in modo pessimo sono pessima e però onestamente c'è la cosa per cui mi sento più in colpa il cuore questo quindi si lo so non mi giudicate male non ha senso come cosa però si tendo a giudicarmi tantissimo io tantissimo io tendo a perdonarmi poco veramente poco e non va bene diciotto ultimo pensi di essere una brava persona onestamente si penso che comunque che però chiunque senta una brava persona cioè a meno che qualcuno non voglia proprio essere cattivo per motivi suoi penso che tutti si sentano buone persone anche se magari io non considero x una brava persona sicuramente lui si considera una brava persona è stessa cosa di me magari io mi considero una brava persona e y non mi considero una brava persona quindi lì è molto molto soggettivo voi siete delle brave persone ditemelo avvisatemi se non siete delle brave persone vabbè allora questo video termina qui era veramente molto semplice diciamo che avevo in mente un trigger che faceva un suono stupendo ma davvero ve lo faccio vedere per non perdere tutti le paillettes questo schifo è tipo lo slam che si è rotto in mille pezzi che avevo fatto opposta e che è un suono splendido avevo un suono splendido quindi che tipo sentite l'ho aperta e poi l'ho appogliata in continuazione quindi penso che la prossima volta lo rifarò e lo userò subito o lo farò in un video insomma e poi vorrei fare anche un video motivazionale per lo studio perché è periodo di sessione esami e lo so lo so a pensarci bene il primo gennaio da parecchi anni in cui non ho esami wow quindi penso proprio sia giunta l'ora di avvassare le luci ci 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 buono buonanotte 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 Good night Buonanotte Buon appetito, buon appetito, buon appetito. Buon appetito, buon appetito, buon appetito.